L'uomo proviene dal mondo minerale. Qual è il significato dell'acqua e sale? Commento. L'essere umano fu creato per metà acqua e metà carne. L'uomo proviene dal mondo minerale e milioni di anni fa l'uomo attuale era inserito negli elementi minerali. Nelle antiche riunioni medianiche che le entità chiamavano assemblee. Su un apposito mobile si mettevano una ciotola d'acqua con disciolto del sale. Le entità che si manifestavano ne hanno chiarito il significato. L'acqua rappresenta la nostra anima spirito, il sale la nostra carne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.